Innanzitutto questa è la ventiquattresima edizione, è già un miracolo che siamo resistiti i 24 anni a portare avanti questa manifestazione e come ogni anno abbiamo individuato, anche quest'anno le soci hanno individuato tre balconi, di cui lì ci sono i cartelloni e le foto. Ho Cire Antonella Prea che abitano qui all'Eccelsior, poi Cire Carmela Carisse del ristorante Il Pontile, Ischia Ponte con un bellissimo balcone tutto bianco e Tina Pesce, questi sono i tre premiati di stasera. È positivo per una collettività come Ischia che ci siano iniziative come queste che educano e che finiscono per propagandare il bello. Quando si premiano dei cittadini che in qualche maniera tengono bella la propria casa con dei balconi pieni di fiori, si fa un servizio alla collettività, si riesce a esternalizzare una cultura dell'ospitalità perché è un paese più fiorito, più colorato, un paese che ispira all'ospitalità e quindi predispone in maniera positiva i turisti che scelgono Ischia come meta per trascorrere le proprie vacanze, ma è anche bello per tutti i cittadini riuscire a vivere in un contesto più bello. Certamente non può essere casuale poter addobbare e adornare le nostre tavole con dei fiori, c'è bisogno di tutta una storia, di poter associare forse anche alle portate e all'occasione, vero professoressa Morgena? Certamente, tanto più che io stasera parlo dei fiori in cucina, cioè dei fiori che si possono abbinare con i cibi mangiandoli, però con la difficoltà di distinguere tra quelli eduli, cioè i commestibili, e quelli velenosi, nell'ambito soprattutto della nostra produzione locale, perché è inutile andare a prendere, come ho trovato in qualche libro, dei fiori australiani che per noi sono un po' irraggiungibili, già come nome. E quindi sono poche notizie, però utili per fare non solo delle insalate, ma anche dei piatti completamente diversi, come per esempio i gamberi crudi con la borragine.